E allora, questo tempo, il risorgimento, di cattolici, comunisti, liberali, socialisti, azionisti, mondatici. Frangola di età, filo rosso che, le gare i nostri vicissi tubini, caratterialmente portati a vita fortuna. A fare la guerra simmetrica, a violentarci socialmente, domando, strada per strada, l'accelerazione dell'altro, casa per casa. Io ti cerco, sotto le macerie, materiali e morali, con un passato un remitente alla letra, che non volevo morire. Sono i testaggi degli squadristi, che la memoria collesiva non ricorda, con un pieno senso di responsabilità, con un passato un culo. Viaccare il prossimo, con mille punture di spillo. No, no, no. una lotta episodica, una lotta epica, una lotta e unifica, un'accelerazione dell'altro, casa per casa. Da casa, in luoghi priviti, ripari naturali, brigantaggio, contraffando mercenarismo o insurrezioni generali. Creare al debito, le più difficili condizioni di vita, lavorare l'organizzazione civile, incentivare il processo di disinterazione. per me, delle forze, dei poteri, alienarsi la simpatia dei muci armati, operai, che schizzano a destra e a sinistra. perché noi, noi non siamo unità, indivisibili della materia, la terra, non è omogenea la terra, non è una storia perfetta. E analizziamoci le collisioni, la rottura dei capitali, dei globi oculati, le armi omaggetti, in aria di messa. Intenteremo certi celesti, come comette, suggeriremo, suggeriremo, alcun panavriter, tasteroidi, alle esercizioni, con o senza appello, in aumento frequenziale del cervello. Adesso la catena, dichiarata qualcosa, l'accelerazione dell'atomo, casa e terra. Grazie a tutti. Grazie.